Sindaco Marinucci, ci sono importanti novità per quanto riguarda la pista ciclabile San Giovanni Tiatino. Ci sarà un proseguimento, se così vogliamo dire, con quella di Pescara? Sì, stiamo costruendo un anello di collegamento con l'area metropolitana che passa da San Giovanni Tiatino, va verso Pescara, lungo Fiume e torna indietro verso Spoltore e quindi San Giovanni Tiatino. Il nostro è un grande impegno per garantire la sicurezza a quelle famiglie che vogliono cambiare il proprio stile di vita, approfittare di questi percorsi che sono chiaramente totalmente sicuri e che possono garantire anche un momento di svago o addirittura cambiare le proprie abitudini, come ho detto prima, e cercare di usare molto più spesso questo mezzo che è anche ecologico. Voi state lavorando da tempo per far capire ai cittadini che bisognerebbe usare meno l'auto e cercare di muoversi con mezzi alternativi? Sì, abbiamo cominciato a lavorare principalmente sugli spazi alla famiglia, quindi abbiamo fatto un parco da 17.000 metri quadrati attrezzato, abbiamo cominciato a costruire dei percorsi ciclopedonali e dove è possibile lo trasformiamo in ciclabile, abbiamo aderito a quel protocollo della Regione Abruzzo che, come avete detto poi poc'anzi, partirà anche davanti alla Chiesa di Botta e si ricollega con il nostro già percorso attivo e credo che San Giovanni Tedino e Pescara saranno ancora molto più vicine.